Nella piazzetta di Santa Lucia a Potenza e per le vie del centro storico, la compagnia di danza popolare Iatrì del gruppo Tarantella dei Contadini di San Gerardo e l'associazione culturale Luguarenied hanno dato vita alla prima edizione dei Umuzuk dei Contadini di San Gerardo, una suggestiva merenda al tramonto tra canti e danze popolari per far rivivere la festa del momento conviviale, preservando il prezioso patrimonio culturale della società rurale agricola e contadina che con la scomparsa degli ultimi depositari rischia di sparire. Questa nostra vivacità popolare è un orgoglio per noi portarlo dentro la storica parata dei turchi tra l'altro noi cerchiamo di avvicinare anche attraverso questo spettacolo all'aperto che è la storica parata dei turchi di avvicinare più giovani possibile perché fondamentalmente la Tarantella, quello che noi in effetti proponiamo ha delle modalità consolidate di riconoscimento, di appartenenza per cui arriva prima al cuore e scalda il cuore e in qualche modo crea benessere. Allora, l'Umuzuk si tratta, i vecchi contadini finivano di lavorare e quindi quando si ritiravano si vedevano un Umuzuk e quindi è tutta sorpresa, abbiamo patate con la salsiccia, abbiamo peperoni, pancetta, salsiccia e detto proprio all'aperto d'Use, un Umuzuk è vero e proprio con un mezzo bicchiere di vino e questo è un live da ricreare.